Il gomone era più vicino proprio perché era in mezzo al mare e invece voi volevate puntare il farò perché me lo chiedo da mezz'ora. Non sai neanche leggere, è inutile che stai lì, non ci sono le figure qua, non è topolino. C'è stato anche qualcuno che ha girato la boa su al contrario, ha girato la boa al contrario. Siamo qui pronti per la intervista. Lei ha visto la barca che ha girato la boa al contrario? E' stata anche avvertita, perché non sono tornati indietro e non l'hanno girata in maniera corretta e consona. Sostenevano di avere un altro percorso. Un altro percorso, un percorso loro che si erano inventati. Inventati a tavolino, tipo il monopoli. A tavolino, a tavolino, a tavolino, a tavolino, a tavolino vicino ad Ancona, Michi e Francesco. No, inventati a favolino. Grazie a tutti.